La data e il luogo di nascita 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 Dove si era procurato quest'arma? Me ne aveva dato quasi 8 armi Aldo Ercolano Noi per 21, 357, un po' di armi diverse, 38 E queste armi Aldo Ercolano e questo puntamento che cos'era? No, il puntamento nascita l'avevo comprato io tramite Barcella in un negozio In quale negozio? Mi sembra che era una travesta di Viettennea dove vendono queste cose Armi, vendono armi E le armi perché le erano state date da Aldo Ercolano? Perché servivano nel gruppo di Ognina per commettere omicidi e repine Le ricorda quella perquisizione in questa casa quando venne effettuata? Il giorno che hanno rinvenuto il cadavere di De Leo Chi era De Leo? Componente del gruppo di Ognina Lei ha fatto parte di organizzazioni criminali? Sì Di quale gruppo? Di quale organizzazione? A partire da che epoca? 84 Lei è stato fatto uomo d'onore? Sì In che periodo? 84 Lei ha commesso omicidi? Sì Prima di diventare uomo d'onore Andremo fino a chiaro Dopo l'omicidio di Andrea Finocchiaro in ordine di tempo Qual è l'omicidio successivo da lei commesso? Dammi no, ho partecipato all'omicidio Fava E quindi E quando ha partecipato all'omicidio Fava era già uomo d'onore o lo è diventato dopo? No, già lo era E quindi in che periodo tra l'omicidio finocchiaro e l'omicidio Fava lei è stato fatto uomo d'onore? Era alla fine 83 inizio 84 Chi è stato il suo padrino per diventare uomo d'onore? Aldo Ercolano Chi era presente alla cerimonia in cui è diventato uomo d'onore? Marcello Dagata, Salvatore Santa Paola, il padre di Vincenzo Enzo Santa Paola, Vincenzo Vincenzo chi? Vincenzo Santa Paola, il figlio di Salvatore Poi? Francesco Mancion La Rocca di Caltagirone, suo figlio che è stato fatto uomo d'onore E un lentinese Che non mi ricordo il nome come si chiama Due lentinesi anzi Sa dove è stato, ricordo, dove è stato fatto uomo d'onore? Nella zona industriale Esattamente dove? Era in un capannone vicino alla latteria solo Era nella disponibilità di qualcuno questo capannone? Di Mancion Era la detente di Mancion Lei ha detto di far parte, che è diventato uomo d'onore Tra l'83, tra la fine dell'83 e l'84 Prima di diventare uomo d'onore Lei era già vicino all'organizzazione? Sì, dall'82 Aveva commesso reati in questo periodo che va dall'82 Alla fine dell'83, inizi dell'84? No, emettevo qualche bomba Reati di omicidi parla? No Sì, sì, emettevo bruciato qualche macchina Che avevano fatti omicidi Marcello Dagata, Giammoso, Pistone Avevano un omicidio? Un omicidio Lei ha bruciato una macchina che era stata utilizzata per commettere un omicidio? Sì, c'è la mia entrare diciamo come ragazzo E l'omicidio da chi era stato commesso? Signor Presidente, le chiedo scusa E vorrei evitare di interrompere in futuro Perché il dibattimento, a mio avviso, in questo momento non va interrotto Però, una volta per tutte, si deve decidere Quando si chiede chi ha commesso un omicidio Questo difensore osserva che non intende qui e oggi trattare la causa degli omicidi Ho già inteso che la spiegazione del movente Che le modalità in linea di massima sul perché sia accaduto È un'indagine che la Corte ritiene pertinente Ma comprenderà la Corte che oggi, nel momento in cui si chiede ad Avola Chi sono gli autori di questo omicidio Si consente di trattare oggi quello che è il tema di indagine di altro processo separato Questa domanda specifica e la Presidente l'avrà percepita Chi ha commesso? Si accoglie l'opposizione Grazie Lei ha detto comunque che aveva bruciato una macchina utilizzata per un omicidio Di quale omicidio si tratta? Barbagallo Barbagallo come? Non me lo ricordo Perché era stato ucciso il Barbagallo? Perché erano risiduti di una guerra che avevano avuto in Santa Paola con i Ferlito nell'82 Quindi si trattava di un personaggio che era vicino all'organizzazione di Ferlito o peraltro? Ferlito, no, gruppo Ferlito Ferlito, Salvatore Pilleria, lì Poi ho cominciato a mettere qualche bomba in negozi, alla VCO Diverse estorsioni facevo insieme ad Aldo Le ho messe diverse bombe E piano piano mi sono inserito nell'organizzazione A proposito di bombe ricorda Poi magari ritorneremo specificatamente Ma sin da adesso dove sono state messe queste bombe e contro chi sono state messe queste bombe? Sì, sì Che lo vuole dire? Sì, sì, l'ho messo una alla VCO Oh Una l'ho messa, un'altra invece di viatteneva un negozio di Di tappeti Però è andata in fuoco questa estorsione E poi le altre le facevo senza bomba Telefonando, diciamo Quando avevo già stipendi, già che trovavo, li aumentavo Ci facevo soltanto la chiamata, soltanto per aggiustare, per aumentare lo stipendi Comunque non ne ho fatte tantissime Lei ha detto di far parte della organizzazione di Santa Paola Questa organizzazione di quale attività illecite si occupa o si è occupata? Ma estorsioni, omicidi, droga, rapine A parte i sequestri di persone che in Sicilia non si possono fare Perché non si possono fare i sequestri di persone in Sicilia? La cosa nostra non ammette di fare il sequestro di persone Lei ha detto che è stato fatto uomo d'onore Ci sa dire quali fossero le cariche della famiglia Al momento in cui lei è entrato a farvi parte Come uomo d'onore? Sì Era rappresentante Santa Paola Vice rappresentante Mangion Capo di Cina Salvatore Tuccio Consigliere Pippo Alcolano E basta Poi gli altri tutti soldati La provincia ce l'aveva Salvatore Marchese Che poi dopo il pendimento dello zio gli hanno dotto la provincia E chi l'ha presa? Per circa un anno io e Marcello D'Agata E dopo? Poi l'abbiamo passata a Pippo Mangion E poi negli ultimi tempi era di Eugenio Galea Come vice rappresentante Perché il rappresentante era Salvatore Santa Paola Negli ultimi tempi sto trovando E prima di avere tale carica il Marchese E chi era il rappresentante provinciale? No, a quell'epoca, nell'84, era lui, Marchese Ecco, dico, prima di Marchese Lei lo sai chi fosse il rappresentante provinciale? Io l'ho persentito dire che era uno dei cavalluzzi Pippo Che aveva la provincia Però non me l'hanno presentato neanche come uomo d'onore a Pippo Cavadruzzo Però sapevo che il Natale e Pippo erano gli uomini d'onore della famiglia Ferreira E per quanto riguarda la carica di Capo di Cina All'epoca del suo inserimento chi era il Capo di Cina? Salvatore Tucci Ha sempre mantenuto questa carica il Tucci? Fino a che è stato arrestato sì Perché poi a me in agosto dell'84 mi hanno arrestato E dopo il suo arresto chi ha assunto la carica di Capo di Cina? Ma la carica era vuota dopo l'arresto di Tucci a Salvatore Ma diciamo che si interessava Enzo Santa Paola Non era ufficiale come carica di Enzo Santa Paola Vincenzo Non è il figlio di Nitto, è il figlio di Salvatore Sì Però non era ufficiale la carica Cioè diciamo che ufficialmente Enzo Santa Paola non è stato mai un Capo di Cina E dopo questo periodo in cui di fatto esercitava Enzo Santa Paola Chi ha assunto la carica di Capo di Cina? Dopo che siamo usciti dal carcere era Aldo Ercolano In che periodo? 86-87 E poi? E poi è diventato vice rappresentante Aldo Ercolano Uscendo il carletto Campanella dal carcere è diventato Capo di Cina lui Un Capo di Cina diciamo provvisorio Perché? Ma perché per la famiglia era già un uomo morto Chi? Campanella E perché era un uomo morto Campanella? Perché quando è uscito dal carcere E' venuto subito da Aldo Ercolano a casa di Aldo Ero io Marcello Aldo Ercolano e Carletto E Carlo veniva accusato di essere stato un traditore verso la famiglia dei Laudani E io ho visto piangere Carletto Dopo questa cosa siamo andati da Enzo Santa Paola E Santa Paola l'ha definito in bici senza resca Ce lo usiamo fino a che ci serve e dopodiché se ne deve andare Questa è la definizione di Enzo Santa Paola per Carletto Campanella In che periodo? A che periodo risale questa definizione? 87? Sì Quindi quando il Campanella? Quando esce dal carcere in Campanella? E' proprio sicuro che il Campanella esce nell'87? 87-88 era Era a casa di Aldo Io non lo posso dimenticare mai Allora ci vuole un po' riepilogare questo episodio Campanella esce dal carcere e va da chi? Da Aldo E viene accusato di tradimento Da Aldo Ercolano viene accusato di tradimento? La voce che girava è che Carlo era un traditore Perché si stava mettendo con i Laudani Perché lui aveva sempre una simpatia da ragazzo E? E io, Aldo Ercolano e Marcello D'Aga Dopo che Carlo se ne è andato Si è andato da Enzo Santa Paola Chi è andato da Enzo Santa Paola? Io, Marcello D'Aga e Aldo Ercolano E perché siete andati da Enzo Santa Paola? Per raccontare questo episodio che si era messo a piangere Che si giustificava che lui non era un traditore Era soltanto un amico Ci serviva per sapere le informazioni E Santa Paola ha definito un bisce senza resca E tutto questo quando Dove avveniva questo incontro con Santa Paola Nel corso del quale si diede questa definizione di Campanella? A Granite A Gravina dove? Graniti Ah, Graniti, perdon In quale casa in particolare? Una casa dove era la detente Santa Paola Non mi ricordo di chi è il cognome E, mi scusi, Graniti Sa indicare la corte dove si trova presto a poco? Verso Cialdini Nacos, Messina E dopo questa discussione Malgrado, diciamo, questo commento Il Campanella continuò a fare il capo di Cina? Il capo di Cina lo continuò a fare Però Campanella se ne stava andando Se non lo restavano era un uomo morto Perché sarebbe stato un uomo morto? Perché la decisione della famiglia di togliere il Campanella Di questa discussione Perché avrebbe fatto questo tradimento, lei dice, con i Laudani? Ma O per altri motivi, non so Qualche motivo altro c'è, ma il personale di Carletto E quando Lei sa se poi il Campanella è stato nuovamente arrestato Anzi, lo ha detto, l'ho appena finito di dire che Campanella è stato arrestato E quando è stato arrestato Campanella La carica di Capo di Cina è stata assunta da altri o è rimasta vuota? No, è stata La doveva assumere Natale di Raimondo Ma è sempre ufficialmente, non è stata Pina che c'era io non è stato emesso, diciamo Che Natale di Raimondo era il Capo di Cina Lei ha detto che per un certo periodo Si è occupato, mi corregga se dovessi sbagliare Ma mi pare che abbia detto che assieme a Marcello D'Agata Si è occupato della provincia per un certo periodo Dopo che Marchese, Salvatore, Salvuccio Marchese Aveva dismesso la carica, è così? Si, per volontà dei palermitani Gli hanno detto di non mandarlo più, che non ci volevano parlare Chi è che non ci voleva parlare più con Salvatore Marchese? I palermitani E lei ricorda dove, quando e con chi si è incontrato Se si è incontrato con personaggi di Palermo In questo periodo in cui lei di fatto ha esercitato queste funzioni? Io non me lo ricordo Cioè non ho saputo identificare neanche il nome E ricorda dove sono avvenute queste riunioni E di che cosa si è discusso? Ma si discuteva dell'estorsione Se c'erano candieri lì vicino a Palermo Se loro mandavano qualcuno qui a Catania Poi di uccidere il fratello del dottore Montana Perché ci dovevano fare il favore Lì a Palermitani perché era il padre di Marino Era un uomo d'onore della famiglia di Reino Di Reino, di qualche gruppo suo Comunque ci teneva tantissimo a uccidere questo cardiologo a Catania Perché doveva essere ucciso? Perché loro lo accusavano di essere stato testimone All'omicidio del figlio Che lo controllava nei periodi che lo bastonavano dentro la centrale Per vedere se il cuore resisteva o no Mi faccia capire Loro accusavano chi? Il dottore Il dottore Che cosa avrebbe fatto il dottore? Dice che avrebbe assistito al pestaggio diciamo del figlio Di quale figlio? Di figlio di Marino Il cacciatore che hanno ucciso a Palermo diciamo la polizia, carabinieri Ma com'è che il cardiologo poteva Aveva assistito a questi episodi? Questo è quello che mandavano a dire valermità Presidente, soltanto un attimo Il cacciatore che hanno ucciso a Palermo diciamo la polizia, carabinieri Il cacciatore che hanno ucciso a Palermo diciamo la polizia, carabinieri Il cacciatore che hanno ucciso a Palermo diciamo la polizia, carabinieri Il cacciatore che hanno ucciso a Palermo diciamo la polizia, carabinieri Perché poi questo fatto non venne portato a termine? Perché Nitto Santapaolo diceva che come era un periodo già la collaborazione di Calgerone Tutte queste cose per non fare collegamenti fra Catania e Palermo Perché si capiva che era un favore fatto ai valermitani Ha deciso di non fare più il dottor Montana, questo il cardiologo Lei sa se questo dottor Montana avesse parenti tra le forze dell'ordine? Il fratello che era stato assassinato a Palermo Il fratello era stato assassinato a Palermo Sì E lui doveva essere ucciso, lei ha detto perché aveva partecipato, aveva assistito? Aveva assistito al pestaggio diciamo di Marino Chi si è occupato di seguire il Montana se lo avete fatto Oppure si è trattato soltanto di un progetto nella carta? No, no, l'abbiamo seguito io e Marcello Abbiamo individuato la clinica Proprio era ad un passo di andarsene Proprio perché ero io, Penuccio Di Leo e Marcello Soltanto che abbiamo sbagliato persone Solo per un intuito abbiamo capito che non era lui E non è morto un poveretto In quale clinica? Non mi ricordo la clinica qual era Comunque verso Canalicchio Lei ha detto che il primo omicidio che lei ha commesso È stato quello di Andrea Finocchiaro Sì Perché era stato ucciso il Finocchiaro? Ma perché si lamentavano tutti che Questo qui parlava male di Santa Paola Però era un periodo che si stavano uccendo diverse persone Per dare un segnale a Catania, alla politica Un po' per tutto è servito Che significa un segnale? Ma perché negli atti stavamo assassinando anche Andò A quel periodo avevamo sotto mano a Gerrizzo Avevamo Rendo E questo era vicinissimo ad Andò Ma perché avevate sotto attenzione questi personaggi? Lo so, io all'epoca ero un ragazzo Marcello mi diceva guarda questo, guarda quello E ho guardato il professore Gerizzo Poi mi sono messo a Canalicchio via Nuovo Luciello a guardare Rendo Poi mi ha detto che non c'era bisogno Poi andò che si doveva uccidere soltanto in una gamba Poi siamo passati a Andrea Finocchiaro E Andrea Finocchiaro invece l'avete ucciso? Io vorrei chiarire una cosa Quando ho parlato dell'avvocato Ruggeri Purtroppo io ho fatto confusione con un altro omicidio Quello di Di Mauro Cioè quando ne ha parlato dell'avvocato Ruggeri dove? Perché io mi ricordavo che l'avvocato Ruggeri insisteva per assassinare Finocchiaro Effettivamente non era per Finocchiaro Ma l'avvocato Ruggeri si lamentava che parlava malissimo Era l'avvocato Di Mauro Io mi scuso ma ho fatto confusione Rispetto a dichiarazioni che ha reso Ricorda in quale procedimento? Ricorda in quale procedimento ha reso queste dichiarazioni? Era per l'omicidio di Andrea Finocchiaro Cioè no no In che occasione? In quale processo le ha resi? Dove? Non mi ricordo che era il processo di Santa Paola Sembra che era a Bologna No ma era a Bologna sì Lei Ritornando alle cariche Alle cariche della famiglia Ci vuole dire in che cosa consistono I ruoli del rappresentante Del vice rappresentante Dei consiglieri Del rappresentante provinciale E del capo dei cini Il rappresentante è il capo Diciamo che ogni decisione Ci deve essere al di sopra di tutto La deve prendere L'ultimo la deve prendere Lui la decisione Il vice è quello che rapporta Tutte le decisioni Quando si riunisce con il consiglio Se debbano fare una cosa Parli più lentamente In modo che la possiamo seguire Diciamo che il vice Quando si riunisce Che non ci può dare Non ci può andare il rappresentante Tipo come succedeva da noi altri Che Santa Paola era la detente Per responsabilità Si riprendeva Alder Colano Con i consiglieri E poi si riferiva tutto Al rappresentante Che era benedetto Santa Paola Capotecchia e il capo dei cini Il capo dei cini è quello Che deve organizzare Tutti gli omicidi E tutto diciamo È una ramificazione Che tutto va a finire Sul capo dei cini Tutti gli omicidi L'estorsione Di tutti i quartieri Le deve sapere il capo dei cini Se si prende la responsabilità Il killer E si fa la squadra Lui per andare A assassinare qualcuno Allora può decidere Anche il capo dei cini E dire portate al tizio E portate al caio Il vice rappresentante Della provincia Invece E viceversa Diciamo Della città Il rappresentante Della provincia E poi c'è il vice Nel nostro caso Che Salvatore Santa Paola Non si spostava tantissimo Era Eugenio Galea Che si faceva Tutti gli appuntamenti Poi c'è il cassiere E questo è venuto Negli ultimi tempi Che era Eerlo E cosa significa? Che tutti i provenienti Di droga Estorsione E cose varie Vanno tutti in una bacinella Che poi Li dovrebbero dividere In parte uguale A fine anni Invece I soldati Danno 10 milioni E gli altri E gli altri Si ingozzano E Questo ruolo Di cassiere È stato sempre Svolto Dall'Aiello? No, no Negli ultimi tempi Prima Stabacinella Ce l'aveva nelle mani Aldo Ercolano La famiglia Ercolano E questi stipendi Da che cosa sono tratti? Dall'estorsione E come sono soldi Che prima vanno Nella bacinella E poi si prendono Nella bacinella Oppure Vengono prelevati Alla fonte Direttamente dopo No, no Di regola Dovrebbero andare Alla bacinella Ma Diciamo Nel mio gruppo Non era il caso Perché Nel mio gruppo Non era il caso Perché Le prendevo direttamente Le dividevo Fra i vari Componenti Se me li mancavano Le andavo a prendere Nella bacinella Se me ne restavano Le consegnavo Ecco Ma quando parla Di bacinella Materialmente Lei ha visto Una bacinella Oppure La bacinella No Non ho visto mai La bacinella Mai l'ho vista Mai l'ho vista Questi centenari Di milioni Si parlava Che c'era Un fondo cassa Grandissimo Però Per chi non lo so Perché io Una volta solo In vita mia Dopo 15-12 anni Ho chiesto un favore Di 200 milioni Per pagare i debiti Della mia casa L'hanno portata così a lungo Che è vergognoso Dopo che io ho portato Centenari di milioni Alla famiglia Oggi, domani Oggi, domani Perché il problema È che mi dovevano assassinare E sembrava 200 milioni morti Quello che io non ho fatto Invece con Dileo Perché Dileo Il giorno prima di morire Mi voleva dare i 200 milioni E io gli ho detto no Perché sapevo che stava morendo Gli ho detto che le lascia la famiglia Invece Marcello Dacata Gli ha fatto uscire 120 milioni Per l'appartamento E non gliel'ha fatto ritornare Alla famiglia Non ho capito Marcello Dacata Sapendo che Pinuccio Stava andando a morire Gli fa acquistare un appartamento Gli fa dare l'anticipo Di 120 milioni Alla spambinata Che da parte di Pinuccio Dileo Da parte di Pinuccio Dileo Mentre viceversa Lei dice Aveva bisogno Mi faccia capire La storia Ho chiesto 200 milioni Impresse Non è che le volevo regalare A chi le aveva chiesti Gli ho chiesto A Don Nitto Santa Paola A Marcello A tutti E mi dicevano sempre Oggi e domani Poi mi hanno fatto incontrare A Contina Aiello A Pelle delle Rose Un po' Lentamente Quando lo hai incontrato A D'Aiello Due giorni prima Che mi arrestavo Lei ha parlato di Dino Aiello Quanto l'ha incontrato Dino Aiello Due Due giorni prima Che mi arrestavo Il sabato E dove l'ha incontrato Ero io Salvatore Tuccio E Alfio Fighiera A Villa delle Rose Che doveva portare Questi soldi Invece Non li ha portati Perché Ha rimandato Di qualche giorno Chi l'ha rimandato Dino Aiello Dino Aiello Sì E Dino Aiello A chi l'avrebbe dovuto consegnare Alfio Fighiera E a Salvatore Tuccio E costoro L'avrebbero dovuto consegnare a lei Sì Su ordine di Aldo E di Benedetto Santa Paola Come prestito Penso che è normale Per una famiglia Come quella di Santa Paola Prestare 200 milioni E ha detto due cose La prima Che non gli hanno dato Questi soldi Perché volevano ammazzarlo Si Si fa capire Perché lo volevano ammazzare E come fa lei A sapere Che lo volevano ammazzare Allora Prima base principale Il sabato Dopo l'assassinio di Dileo Il venerdì Io vado da Aldo Ercolano La vicina di Dileo Quanto è avvenuto Solo come Il venerdì Venerdì Io quando vado Aldo Ercolano Il sabato mattina Si E mi dice di dirgli al Marcello Se c'erano altri pensieri Che si doveva togliere A me non è il pensiero Subito da Franco Giammoso Perché sapeva qualche omicidio Aveva partecipato all'omicidio Fava E Marcello mi dice No non penso Dici Va Giammoso C'è stato di Aldo E mi ha detto questa parola Se c'è qualche pensiero Alto di toglierti Meglio di ora Non c'è Il riferimento invece Era per me Perché Perché l'indomani Io sto andando a mangiare A ristorante Mi prende Marcello D'Agata E mi dice No non c'è andare Vai Dici da Da Rosabba Là come si chiama Rosaria Che era la confidiente di De Leo Si E gli dice Va che non si preoccupi Per l'amore C'è stato di mangiare Insomma Ci vado domani No no Vacci ora Vacci ora Andiamo Prende il mio moglie E questo mi spiega Che giorno della settimana è avvenuto E la domenica La domenica Il messaggio Gli romanda sabato Al Del Colano Se c'era qualche pensiero E lo porta lei stesso Il messaggio Io Io Sì Io lo portatore della mia morte Io stesso Continui Niente E mi infia lì A Tre Mestieri A Tre Mestieri Io A Tre Mestieri a casa di chi? Di Vinicio De Leo Sì Fortunatamente Se aveva collaborato Pasticcino Lì c'è Della E mi trovavo Nella Nella Tipo bianca Che era della polizia E arrivano Sti due e tre ragazzi A bordo di una Peugeot Che non avevano capito Neanche che era una pattuglia Cioè ho dovuto avvisare Io diciamo Il capo pattuglia Perché era solo nella macchina Che stavano uccidendo Tutti e due Questo ragazzo si è un po' Impavorito Poi esce la pistola Questi fanno marcia indietro E se ne vanno E finisce lì Io non l'ho detto lì Io non l'ho detto niente Non mi sono lamentato Era una cosa mia personale Purtroppo il gioco Lo sapevo Ma mi faccia capire Perché ha detto Per fortuna Si è pendito Pasticcino Perché io morivo quel giorno Se non c'era la pattuglia di polizia Sotto la casa di De Leo Io morivo quel giorno E perché c'era La pattuglia Sotto la casa Perché Ricciardello Aveva infiato i poliziotti A casa mia Dove mi hanno trovato la pistola E parlava dell'omicidio De Leo E vanno a casa di De Leo Per vedere effettivamente Se questo ragazzo è scomparso Sì o no E io trovo la polizia In borghese lì sotto Lei ha detto Che l'omicidio di De Leo È avvenuto venerdì Che sabato È andato Da Aldo Ercolano Che Aldo Ercolano Ha fatto quel discorso Che è appena riferito E che domenica Il Marcello Daghera La invita ad andare A casa di De Leo Ha anche detto però Che era stato Aveva avuto un incontro In un ristorante L'ho ricordato poc'anzi Assieme a tutti Sì sì A Piero De La Rosa Ecco E questo incontro Quando invece è avvenuto? Sabato Sabato pomeriggio Sabato pomeriggio Lei Da Aldo Ercolano Quando c'era stato? Sabato mattina Sabato mattina Da Aldo Ercolano dove? In quale casa? Dove abitava? Dove? Che via Novaluce Via Vicino alle soperesse Quella zona Che via Scroppillo Ecco E poi Le dice Il pomeriggio Si incontra Con Tuccio Fichera Di Noiello Per la consegna Di questi soldi Si Ecco Lei Ha trovato Fichera E Tuccio Lì Oppure Ci siete andati assieme A questo incontro? Ci siamo riuniti Io e Alfio Fichera Al Model All'Agi E poi siamo andati Al caseificio Di Di Duccio No Con Duccio Ci siamo visti Al Bella Vista A De Cereale Perché il primo appuntamento Era lì Al Bella Vista A Bella Vista Dopodiché Tutte e tre Con due macchine Ci spostiamo Verso Villa delle Rose E lei si incontra Materialmente Lo ha visto A Di Noiello? No, no, no Si è incontrato Salvatore Tucci È uscito subito Dice Però l'hai rimandato No, no Era lì È arrivato con una macchina Io neanche sono sceso E lei Quel giorno Di sabato Ha avuto altri appuntamenti Altri incontri? Sì Con Santa Paola Dove? A Barcellona E quando esattamente? Lo collochi nel tempo Tra l'incontro con Ercolano E l'incontro con No, no Non c'è di collocare niente Di primo mattino Con Addo Ercolano Di primo pomeriggio Con Santa Paola La sera Verso le sei e mezzo sette Ero già a Catania Con Santo Battaglio Che mi lascia il moto E me ne vado con Alfio Fichier Cioè Con chi è andato Da Santa Paola E dove è andato A trovare Santa Paola? A Barcellona E con chi ci è andato? Con Santo Battaglio Con Santo Battaglio Perché è andato A Barcellona? Dove esattamente? Si è andato a Barcellona Prima Messina A consegnare dei soldi A cognato di Santa Paola Una pentina di milioni Chi è il cognato di Santa Paola? Franco Romeo Franco Romeo Il cognato E questi milioni da consegnare A che titolo lei li consegnava? Ci servivano per i carcerati Debiti che aveva La famiglia lì a Messina Il parente di Santa Paola Ma quali carcerati? Ma forse aveva ragazzi in carcere Deveva pagare gli avvocati Spese che aveva lui durante il mese Quindi lei incontra Santa Paola nel primo pomeriggio A Barcellona E di che cosa avete parlato? A casa di chi? Lo sa dire? La casa gliel'aveva cercata Pippo Gullotta Di che cosa? Chi ce l'aveva indestata non lo so Di che cosa avete parlato? Ma abbiamo parlato Dell'omicidio di Leo E di questi debiti Che avevo io con la padrona di casa E basta Non mi ricordo più E di questo omicidio In che senso ne ha parlato? Che si stava pulendo un po' Diciamo la famiglia e i gruppi Si stava pulendo Pulendo vuol dire Uccidere persone che non erano più Attendibili E non si poteva dare più effetto E perché c'era questa Diciamo Non so come chiamarla Questa volontà Questa strategia Di fare pulizia Si trattava di persone inattendibili Quando si riguarda il di Leo La discussione Se dobbiamo andare un po' più indietro Verso l'88 Perché era con Carletto E il Natale di Raimondo Se lo portano in una casa A Valverde Dove doveva acquistare Carletto Una villetta Proprio nella montagna E lì c'era Natale di Raimondo Franco Spascio Carletto Carletto ci fa Mi fai compagnia Mi fai compagnia Deve parlare più lentamente Sennò ci sono difficoltà A trascrivere Mi fai compagnia Dice a Valverde Quando guardo questa casa E Pnucci invece Arriva in questa casa E scappa dalla macchina Pino di Leo Si E poi viene al modo Non sapeva come giustificarsi Se che si era spaventato Che lo volevano uccidere Franco Spascio Una torre di Raimondo Però diciamo che Marcello è intervenuto Io Marcello Abbastanza Dicendo Si è spaventato Era nervoso E si è salvato la vita Un paio d'anni Poi è successo Questo fatto di San Bere Dove io gli dicevo Che significa questo fatto di San Bere La collaborazione di San Bere Gli ho detto Pnucci guarda che Sta collaborando Claudio San Bere Si 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 Ma beh che sa Non sa niente Queste cose Poi lo manda A colloquio Da suo fratello Perché c'era l'altro fratello Di San Bere E erano verso le due Di pomeriggio Ritorna Mi bussa la porta forte forte Dice Maurizio Maurizio Ci devo dire una cosa importante Dice sta collaborando San Bere Aveva una settimana Che te lo dico Che sta collaborando San Bere E lì si è capito Che penuccio Con la testa Non c'era più Lei ha parlato Di pulizia C'erano altre persone Che comunque Venivano ritenute Inattentibili Ma si doveva fare A qualche soprannome Non c'erano Comoscio Dopo l'omicidio Di marchese Dice che loro Dicono che si drogava Persone inattentibili E quindi Ritorna Dall'incontro Con Santa Paola Dove si reca? Con Battaglia Lei ha detto Dove si reca? Io mi faccio lasciare A Modale Di Battaglia E me ne vado Con Alfio Fighiera All'incontro Di cui ha detto Per ultimo L'incontro con A Bella Vista Bella Vista Non c'è Ci spostiamo Verso la Villa delle Rose Con Battaglia Abbiamo parlato Dell'omicidio Che nel frattempo Che si uccideva Di Leo Si aveva fatto uccidere Anche a Carbonaro Che si era interessato Battaglia Lei Ha fatto riferimento Ad alcune All'attività Di estorsione Prima di questo Forse le volevo chiedere Una domanda Di carattere generale Nell'ambito Dell'organizzazione Del Santa Paola Esistono Dei sottogruppi Oppure l'organizzazione Si presenta Come un Come un unico Gruppo Ha capito la domanda? No Dico Nell'ambito Della organizzazione Del Santa Paola Vi sono dei sottogruppi O gruppi No C'è un'altra Come gruppi Tipo Ognina Pianella Non sono sottogruppi Fanno parte sempre All'organizzazione Non sono uomini di Cosa Nostra Ma fanno parte All'organizzazione Ecco Lei come li chiama? Quando parla di Ognina Io li chiamo Affiliati Si ma Ognina Che cosa intende per Ognina? Un gruppo di ragazzi Guidati da un uomo Di Cosa Nostra Nel nostro caso Da due Con il consigliere Ci siamo capiti male Però dico questi gruppi Lei ha detto Un gruppo di ragazzi Esistono altri gruppi Di questo tipo? Esiste 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 A Pianotavola Esiste A Montepo Esiste Al Villaggio Sondaga Al Bulling Ci vuole dire Per ciascuno Di questi Gruppi Chi è Il responsabile Il capo Se c'è un responsabile Responsabile Ecco Capi non ce n'è Per quanto riguarda Quello di Ognina Chi è il responsabile? Dagata Poi lei ha fatto Riferimenti ad altri gruppi C'era Natale di Raimondo Che era a Montepo Stando a battaglia Al Bulling Al Fichiera Prendeva la zona Fra Bulling E lo scabbello del pesce Poi c'era Mattiglina Squillaci Che era a Pianotavola Poi c'era uno Che era diretto Diciamo da Enzo Enzo chi? Enzo Santa Paolo Villaggio Ma Enzo è stato sempre Non è stato mai Scablet Girava quasi tutti i gruppi Enzo Santa Paolo Non stava con un gruppo fisso Anche se diceva Che guidava il gruppo Di San Giorgio Però Andava un po' in tutti i posti Montepo Girava lì Erano Vienono delle Persone Che Più delle altre Erano vicine Nell'attività Illecita Ad Ad Enzo Santa Paolo Sì sì Aveva il gruppo Diciamo Quello più affiatato Era con Brangiforte Di Fazio Ragazzi Lui ci stava più vicino Facevano repine Facevano omicidi Facevano di tutto E Di altri gruppi Gruppi Ogni gruppo Faceva le sue storsioni Ecco no no Dico Oltre a questo Lei ha parlato di questo Il bullying Ha parlato di ogni Ha parlato di Piano Tavola Ne ricorda altri gruppi E poi c'era Picanello Picanello Chi c'era come capo Ma c'era Carletto Campanella Che era capo di Cina E poi diciamo Che era l'unico Più Attivo del gruppo Poi è stato fatto Come Donore Anche Sofattore Cristalde Gli ha dato una mano d'aiuto Nelle cose Poi Altri gruppi Che c'era E poi 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 C'era questo qui Che diciamo Che non era un gruppo Era Dove c'era la Renault In via Leoni Ma non era un gruppo Lì ci riuniamo Diciamo tutti quanti Non lo so Se lo definire un gruppo Non lo so Come definirlo Quel posto Cioè Vi riunivate Io dico il cuore Ma perché Si andava tutti lì Perché si trovava Aldo Ercolano E non lo so Non era un gruppo Oltre Pippo Mangione Lei ha detto Poi ne ha nominato Un altro Ricciardello Ricciardello Il cognato di Mangione E poi Poi un altro vecchietto Non me lo ricordo il nome Il tale che l'abbia fatto Se non ricordo Sì ma non mi ricordo Ma non mi ricordo Era di preciso Sto gruppo E Lei ha detto Che questo gruppo Si occupava di droga C'erano altri gruppi Che si occupavano Di droga Ma qualcosina Negli ultimi tempi Era Natale di Raimondo Che si era messo Con Angelo Santa Paola Con questa droga Negli ultimi tempi però E noi altri come gruppo Del model Tranne Marcello Che ha fatto un investimento Con del fumo Però A malinguore Soltanto perché era Senza soldi Non lo voleva fare Poi Si ci voleva mettere Un po' Franco Giammoso Invece Ha mollato tutto Non era cosa per lui Neanche Gruppo ogni Franco Giammoso Che significa Che Giammoso Aveva Cioè Ci vuole chiarire Questa storia È stata una vicenda Che io mi trovavo Al model E è venuto Sant'Anucito Quello Carmelo Munzu E Carmelo Munzu dove È venuto al model E chi è questo Carmelo Munzu Uno che fa parte Del gruppo La famiglia Santa Paola Spacciatore No spacciatore Grossista di droga Perché non lo definisco Spacciatore Di quale gruppo Sempre lì Via Leoni Questo è il gruppo Di queste Quindi lei Ha visto Ha visto Al model Agip Al model Agip Al model Agip Dopo qualche Dici minuto Un quarto d'ora Cioè a me Mi dava fastidio Che questo Che stava qua Perché lo sapevo Che portava soltanto Guai Finanza Cose Sempre Era conosciuto Diciamo Nell'ambito Della droga Domenico Scusa Cammelo Ma lei Che cosa fa qua No dice Devo aspettare Franco Giammoso E cosa deve fare Lei con Franco Giammoso No dice Quando ci viene una cosa Me la dia a me E mi ha dato Un pezzettino Di carte Che mi sono Che lo chiamava Di lei Lei è Giammoso Io a tutte le persone Grandi che mi avevo Di lei E che Giammoso Era No no Sto parlando Per Sant'Ano Città Ah si E mi ha dato Un pezzettino Di carta Mi sono schifato Io stesso Comunque Me la sono messa In tasca E' arrivato Franco Giammoso Gli ho detto Treppalore Che gliele può confermare Sia un uomo Veramente E mi ha giurato Su suo figlio Quello malato Che non ne toccava Mai più E ci credo Che non ne ha toccato Mai più Questo solo Abbiamo avuto Solo questa cosa Al model Di questa schifezza Sta bustina Che avevo visto Solo nei film Veramente Lei ha detto Che Marcello Dagata Aveva fatto un investimento Sia pure a malincuone Perché era senza soldi Per che cosa? Era del fumo Che doveva arrivare Lì Che si stava interessando Francesco Mancion Dai paesi Di dove si importava Questo fumo E gli hanno messo 50 milioni a testa E di cui io no Gli hanno messo Soltanto Marcello Dagata Però è andato male Perché Questo fumo È stato È stato trovato a mare Dalla finanza Comunque hanno avuto Gli hanno sparato Gli hanno? Gli hanno sparato Questa nave Gli hanno buttato Il fumo al mare Non si è recuperato Più niente Ha rimesso Soltanto 50 milioni Di tasca su Gli ha detto Ci hanno messo Ci hanno messo a testa 50 milioni Gli altri Che hanno partecipato A questa operazione Maceraldo Ercolano Mancion Giuseppe Strano Suo fratello Marutucco Un altro Che gestisce Un garage Al Al Grattacielo Non mi sto ricordando Come si chiama Diverse persone Hanno messo 50 milioni a testa E lei come fa A essere informato Di questa operazione? Io sono informato Perché sono andato Con Marcello D'Agata In via Battello Dove c'era La di Tante Mancion E questa casa Di via Battello Sa a chi Era di un nipote Della famiglia Mancion Ora di sorella Cugino Comunque un nipote All'infuori Per non andarci La polizia Era un nipote All'infuori Poi non ce l'aveva registrato E Marcello parla Con Mancion Dove si parla Di questa droga Questa cosa Marcello voleva fare A modo suo Invece Mancion E qui comando io Si fa come dico io Così era umbriaco Ha maltrattato Marcello Come una pezza E Marcello zitto zitto Ha consentito Sta cosa Dicendo a me Che ciuzzo sbagliava Però Fatto sta Chi non ha fatto niente Perché era umbriaco Non ho capito Qual era la materia Se c'era la materia Del contente Del tramangio Perché Marcello Si voleva Marcello Voleva fare lui Questa operazione Diciamo Nel senso di Cioè di non ragionare più Con la mentalità di Mancion Ancora i gommoni Ste cose Marcello è un po' più avanzato Con idee E forse che ci riusciva Invece loro sono Con la vecchia mentalità Io con i miei compagni Occupo e pushano Questo Comunque E' passata Diciamo la parola Di Mancion Che poi è andata male E chi altri Era presente In questa casa Di via Battello Strano Del fatto che Fosse coinvolto Il titolare Del garage Centrale Ed è come fa A esserne certo Perché poi L'ho rincontrato Sempre lì Che stavano parlando Di questa Di questa roba E poi è venuto Quando l'hai incontrato Un paio di giorni dopo Hai incontrato Il titolare Del Sì L'ho incontrato In diverse occasioni Anche dove ero Adelante Santa Paola A Mascaluccia Cioè diciamo Che non era uomo d'onore Ma era vicinissimo Alla famiglia E non ricorda Il cognome Di questa persona Non l'ho messo a ricordare In effetti Lei ha fatto Ora Troveremo Il passo Del Verbale In cui lei ha fatto Il cognome Di questa persona Non riesce a ricordarlo In questo momento No no Non mi sto ricordando Lei sa Se Questo titolare Del garage Ha Altri Parenti Un figlio Che era vicino A Enzo Santa Paola E di che cosa Si occupava Questo Ma faceva qualche repina Qualche cosa Poi gli ha sparato Un costruttore Lì in Piale Vicino Corsitalia In un bar L'hanno ferito E in un bar L'hanno ferito E riuscito a scappare Era lui E Nino Santa Paola E perché hanno Sparato a questo costruttore Ma per Nino Santa Paola Perché Si Aldo Che Ce l'ha fatto Di testa sua È stato criticato Perché Ma il motivo Per cui Sarebbe stato Oggetto Di colpi D'arma da fuoco Questo costruttore Ma Ha avuto Problemi con Nino Santa Paola Con Nino Santa Paola Il fratello di Santa Paola E Ricorda Questo episodio Dove è avvenuto Al Bar Shell In attraverso Di Corsitalia E ricorda L'epoca In cui è avvenuto Questo fatto No ma diciamo Si aggira Sul 90 Ricorda il nome Di questo costruttore No non me lo sto ricordando Ricorda dove abita Questo costruttore Vicino Che zonio Vicino Canalicchio Esattamente dove No no Era un'altra versina Ci sono andato a casa La via non la so Di preciso Sa Se Nei pressi Di questa Casa Vi è l'abitazione Di un'altra persona Sta vicino Eh No Ricorda Se ci fossero Dei rapporti Tra Il Costruttore Di cui lei ha detto E Benedetto Santa Paola No io ero un amico Di Benedetto Santa Paola Dall'infanzia Perché Poi Carletto Campanello Sul cellulare Ci chiama E lo fa parlare Direttamente con Santa Paola Eravamo io Carletto E Santa Paola A Mascaluccia Dove Gli spiega questo fatto Carletto E fa il numero del cellulare E glielo fa parlare Mi scusi Non avevo interesse Era soltanto un amico Diciamo Di infanzia Perché questo era Un vecchio E chi ha fatto il numero Del cellulare Carletto Carletto Dove si trovava A Mascaluccia Insieme a me Da Santa Paola A casa di chi Dove erano Di Santa Paola E chi era Di Grasso Di Grasso Quello delle bombe E cioè Avete fatto il numero Telefonico Di questo costruttore Maio